nuovi a fila punte restyling per giorgio che cosa abbiamo di novità novità è il restyling della macchina piccolina che la a 0 0 3 barra 3 13 a che sta per il restyling la gamma si completa con a 0 13 barra 26 perciò gamma da 13 mm fino a 26 e poi entra il nuovo prodotto che è il top di gamma che fa da a 0 3 barra 32 perciò va da 3 mm fino a 32 mm e prende praticamente una buona parte delle punte questa è una macchina quindi destinata ad un uso professionale si perché inizia avere comunque una capacità di affilatura di una punta fino a 32 mm quindi inizia ad essere già per una carpenteria un'officina meccanica e non per lobbista e non per il privato la 0 3 barra 13 invece è proprio per tutti perché il 90 per cento delle capacità dei mandrini da trappano da banco medio piccoli sono 13 16 mm e quindi qua vai a fare la filatura della punta e di tutte le punte che uno utilizza e come funzionano funzionano in maniera semplicissima e banali e uno non ha bisogno di avere una conoscenza ben precisa della punta che ha un mondo complicatissimo split point spoglia non spoglia tallona non tallona semplicissimo noi abbiamo un nonno qua che praticamente una volta che vado a posizionare la punta e dentro un morsetto che alla gamma di morsettini con le pinze sono delle specie di er che mi dicevi prima er 16 sono diverse però analogo come sistema vado a posizionare la mia punta nel morsetto decise segnalando il tipo di punta che vado ad affilare la punta andrà infilata dentro in una battuta si allineerà ben precisa in un modo ben preciso sul morsetto astrinto il morsetto non vado a fare altro che infilare la punta il morsetto all'interno di un suo alloggio iniziare a ruotare per una piccola inclinazione che è praticamente è la l'elica della legata e la spoglia vado a fare la filatura tolgo il mandrino lo giro di 180 gradi perciò vado a lavorare sull'altra faccia e vado a fare la filatura anche dell'altra parte della punta ok quindi a praticamente una precisione diciamo il foro combacia perfettamente quindi è impossibile che possa la punta è perfettamente allineata perché è strinta cilindricamente dalla pinza vado a inserirmi mi vado appoggiare su una mola in cbn oppure c'è anche la possibilità di avere un altro materiale che adesso non mi ricordo che avrei prendere il catalogo e ti permette di affilare anche le punte in metallo duro perciò a queste qua con la mola che c'è in dottazione che è una cbn affili tutte le hss che sia il cobalto al tin rivestito non rivestito però l'hss poi c'è un altro tipo di mola dedicata al metallo duro che semplicemente deve cambiare questa regolazione allora tornando qua sotto hai la possibilità di fare l'inclinazione 118 gradi 120 gradi 132 gradi che sono le affilature classiche delle punte metalliche sopra vai a fare l'assottigliamento del nocciolo quando fai l'affilatura delle eliche noi abbiamo l'elica destra l'elica sinistra al centro si crea un nocciolo si dice o anche il centrino qui dalla parte superiore lavorando dalla parte interna della mola a 90 gradi andiamo a fare l'assottigliamento del polli del nocciolo perciò infilando sempre il corsetto andiamo a fare una piccola regolazione ruotiamo 180 gradi facciamo l'altra faccia e abbiamo fatto l'affilatura completa perciò anche un neofita del mondo dell'affilatura comprando una macchina di questo genere inclinando solo un'inclinazione giusta aumentando calando tramite questo pomolo il nocciolo della punta io vado a trovare una filatura perfetta su una punta senza essere super esperti diciamo di affilatura della punta stessa identica cosa con questo noi qua abbiamo la macchina che si sdoppia perché giustamente abbiamo un campo di pinze che nasce per le punte piccole fino a 13 mm e un altro campo di pinze che nasce dal 13 mm fino al 26 la macchina praticamente sono due in una si sdoppiano e abbiamo praticamente da questa parte qua il blocco per affilare le punte grandi e da quest'altra parte invece il blocchettino per affilare le punte piccole sempre con le mole che si possono cambiare per affilare l'HSS oppure il metallo duro interessantissimo perché è veramente un prodotto che chi ha un'officina con diversi dipendenti e non puoi avere sempre il dipendente bravo che sa affilare e affila per tutti qua ognuno è indipendente si prende le sue punte al momento di affilare la punta la vai a affilare quindi è una cosa che si può fare senza avere particolare esperienza nell'affilatura delle punte il bagillare proprio scegli il tipo di punta morsi la punta fai la battuta passi dalla parte dell'altra ok quindi mi dicevi che le pinze assumirono le pinze R ma non sono pinze R ma sono pinze dedicate sono pinze dedicate comunque abbiamo come ricambi abbiamo come ricambi come ricambi abbiamo le mole ok si consumano sono un materiale di consumo le mole e le pinze come mi chiedevi il morsetto perché capita che si può perdere anche quello però del resto la macchina è molto semplice perfetto ti ringrazio mancherebbe grazie a voi